io non l'avevo vista secondo te l'avevo vista già prima non si batte la velocità di blood honda a base a aerea o aerea è una parola palindroma probabilmente non è giusto palindroma qualcuno mi dice se è giusto palindroma si si è giusto mamma che forte aerea come è che sono tutti atterrati di già io sono messo da dio non è vero ma io sono perfetto ho due flette in un armor bianca what problems do you have so atterrato per primo forse li sento si li sento ora faccio un predict e gli butto la granata che gli esplode appena sale parta nei uno appena non è vero l'ho mancato c'era i davanti venga vieni qua la lifeline è one shot è veramente one shot la lifeline la fai? oltre meno poco la fermite no gli è rimasto tipo 5 pusciatevo no scherzo occhio dietro occhio dietro anche qua giù è viola è blowdown no vabbè guarda questa era viola ridicola mamma che ridica no è entrata giusto dov'essi scialla vieni qua hai l'armor blu carica occhio perché non so se c'è altre gente però grazie ho bisogno di pesanti ho due armi pesanti e non 50 siringa non è entrata in casa sono andato a destra col cerchietto lì a destra e ho fatto tutto il giro esterno l'animazione della freccetta è questa fidget spinner solo che io la freccetta a sinistra ce l'ho scomoda quindi mentre corro non mi viene da premerla ha responato erano loro sempre l'anello non so se c'è un altro è stato eliminato campione fuorigioco oh si emlock è caduto uno solo eh che ci sto andando penso tornino subito perché li hanno appena uccisi questi si 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 lasciamo pure la zip ma voglia credo non hai visto quello che è responato qual'era vero cento cento ok l'oteno l'ho preso il nemico ha battuto 10 secondi l'anello è vicino mi sbarano amici eh ok il pat find è viola fatto è one è one è one è one è one fatti tutti? il pat find è l' nice minchia doppio flatline è tipo la combo della vita è fortissimo per me aveva quel pat find 3001 è l'ombo ma ha distrutto 4001 un flatline castellato e uno non castellato chi biello avete cura? 80 pesanti si 80 pesanti 80 leggeri ho una batteria vieni qui c'è una batteria a scudo cure no c'è ho 4 siringhe se non hai altro madame art non è in medikit no ce ne ho 4 tieni ti do 2 siringhe ah medikit ce l'ho tieni tieni ah mi ho fatto in medikit allora qui c'è un kit medico ma piglia lo stesso una siringa se si senza controlliamo quella zona una ah l'animazione è questa mortal niente di che ma non la possiamo vedere l'animazione e invece l'animazione mentre corri è quella del fidget spinner io non l'avevo vista secondo te l'avevo vista già prima non si batte la velocità di bloodhunda che grande la tecna catava ah eh sì sì non ci credo eh l'hanno presa da poco la zippa mh 76 secondi in verità mh da poco un minuto è eh rip infatti so dall'altra parte della mappa ormai è che l'ultima volta ho usato bloodhield rimanevano per 30 secondi ste robe quindi sai io sto andando comunque occhio al nuovo leader uccisioni amici baci baci oh no non sono il kill leader con 4 kill è una lobby seria due secondi fa ah e con quante kill me l'hanno inculato 5 mamma mia parta mh la cascata sta facendo il bagnetto nell'acqua un calcio anche non c'è il meno bianco fai l'animazione no non posso non posso farla per colerlo ero pronta a farla batteria potevi lasciarvelo quante ne hai? io e tu io ne ho due una mi basta c'è qua dentro guarda eccola perché l'ho droppata che cazzo vuol dire predict c'è easy predict c'è una squadra non full cattiveria cos'è? cos'è la quale? è un'accettata guarda faccio la legna andiamo per dove? prendo dopo posso prendere la rai frine si triggerà harta l'unico senza heirloom bellissimo rischia non averlo lì l'ho mese che trovarlo su un pg che non usa ma cosa? quello di blodio sono felicissimo che mi frega che non lo uso su questo da lì da sotto? guarda lì guarda lì ma c'è davanti mi sa che sono morto dobbiamo andare dobbiamo salvarlo ma sono due team vabbè ritorniamo lassù io sto sciallo qua sto a posto per ora mi pusha no? è un altro team a destra mia va fate qua son safe li volete aspettare qua? erano tre team uno davanti uno sono a sinistra no mi sa che quello sulla navicella era quello che era sceso qua ah si? si sulla navicella ce n'è ancora è sceso ora giustamente è scesi due tu hai pugno lo accetta non ti conviene sta sparando tra di loro? godo sta fermo sta fermo che c'è gente ah ma possono far il giro pure di là che palla poteva chiudersi due centimetri più in qua la safe ma non li vedi ancora Arta? si li vedo li vedo io da lontano non posso guidare è shot il pathfinder penso ok oh cazzo ti sei messo davanti però rip è one Arta buonissimo mi manca una kill io devo andare penso qua sotto saranno no? fightano davanti a me manca il mio patty in teoria ma guarda che sono cioè hanno lasciato qua davanti a me? si fatto uno e il distanguamento hanno fatto tutto il team metto la zip qua per andare su io qua sopra è rotto il bloody è morto è morto sta fightando qua è shot la bungalore ok ok c'è un caustic c'è un caustic ha una capita è rosso è rosso è rosso nell'angolino stonks è scappato è scappato boh qua almeno due le avevo lasciati shot sono morti dall'altro team non ho mai usato l'accetta però in sta partita che palle cioè no cazzo usata l'ho usata ho picconato tutto il picconabile ah seba hai rubato anche tutto il rubabile io ok qualcuno mi fa fate la divisione 1102 diviso 7 e poi fate 590 diviso 4 ditemi qual è il risultato più alto di media danni per kill una l'unica l'unica crep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating i'm waiting and always hesitating kryptonite desire set my heart on fire I don't fly